Dopo l'entrata in vigore del decreto legge numero 104 del 2020, il cosiddetto decreto agosto, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione chiarisce alcuni aspetti rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti, cura Italia e rilancio. Il decreto agosto estende fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelli di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione. Sul proprio sito l'Agenzia Riscossione fornisce nuovi chiarimenti sulle modifiche alla normativa della riscossione introdotte in questi mesi a seguito dell'emergenza Covid-19. Questi gli altri esempi. Il nuovo provvedimento differisce al 15 ottobre, prima era il 31 agosto, il termine finale della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell'invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Viene dato più tempo per i pagamenti che derivano da cartelle e dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agenzia della riscossione, in scadenza l'8 marzo, che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il 30 novembre dello stesso anno. Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi che derivano da pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agenzia della riscossione prima del 19 maggio, su stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro e impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Il decreto agosto non è intervenuto invece sui termini di scadenza della rottamazione a terra e del saldo estralcio, pertanto il termine ultimo entro il quale effettuare i pagamenti della rata in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020. Nel sito dell'Agenzia delle entrate e riscossione tutte le delucidazioni sulle novità del decreto dell'Agenzia delle entrate e riscossione tutte le delucidazioni sulle novità del